Per detenzione e fini di spaccio, un 24enne di Bonefro è stato arrestato dai carabinieri di Larino. Il giovane è stato individuato dai militari durante un controllo del territorio, è stato quindi fermato nel centro del paese sottoposto a perquisizione personale. Rinvenuti 3 grammi di marijuana, mentre altri 92 sono stati ritrovati nella sua abitazione insieme a materiale per il confezionamento, tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 24enne è stato così arrestato e tradotto nel carcere di Larino, denunciato invece dai carabinieri di Sesto Campano per detenzione illegale di droga, un 35enne pregiudicato di Pozzuoli. È stato trovato in possesso di un involucro contenente, dossi di cocaina. Nei guai anche un quarantenne Isernino, ma per furto aggravato. Nella notte il malvivente ha portato via da un'attività commerciale 40 pedane in legno. Denunciato per lo stesso reato, un trentenne di Caevano si è appropriato di due telecamere di videosorveglianza di un negozio, infine per interruzione di servizio pubblico, deferito un diciottenne di origine nordafricana, il giovane salito su un autobus senza biglietto, a seguito di controllo, non è voluto scendere causando il blocco del regolare servizio di linea.